Cari giovani, buon pomeriggio! Non c'è niente di più bello che contemplare i desideri, l'impegno, la passione e l'energia con cui tanti giovani vivono la vita. Questo è bello. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. Definamente grandiose. Un po' di un giovane, di un giovane, di un giovane, di un giovane. Grazie a tutti. 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 Per via di un bicchiere d'acqua fredda ho avuto questo blocco intestinale dove non mi è più pompato il sangue al cervello. Mi ha portato quindi a stare ricoverato vari mesi in ospedale e poi diciamo l'incontro con Carlo sognandolo così da un sogno in maniera sconosciuta si è fatto conoscere quindi ha fatto subito parte della mia vita. Ai giovani serve proprio presentare un'immagine quotidiana della vita di Carlo è semplice, raggiungibile, cioè quello che lui ha fatto ed è quello che si occupa la nostra associazione. Ho conosciuto Carlo all'incirca due anni fa attraverso l'incontro con Antonio che mi ha portato un po' la sua testimonianza. Da lì ho partito proprio una curiosità, una voglia di saperne di più di un giovane, di un ragazzino di 15 anni che nel 2000 riesce a vivere la fede. Mi colpì molto una frase che diceva Carlo che la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi mentre la felicità è quello rivolto verso Dio. E questo un po' mi ha cambiato perché sì ero sempre stata una ragazza che frequentava la parrocchia però forse il mio sguardo rimaneva sempre un po' troppo chiuso verso di me, verso me stessa, verso quelli che erano i problemi. Invece Carlo con la sua vita mi ha fatto vedere come anche nelle piccole difficoltà o in quelle grandi come poi è stata la sua malattia puoi davvero vivere una vita piena, felice, se con lo sguardo si alza e si alza verso Dio. A me personalmente la cosa che ha colpito di più di Carlo è appunto il suo essere originale e speciale perché nonostante appunto avesse la mia età lui mi ha fatto capire che la santità è la portata di tutti. Colpiscono molti aspetti della sua vita, cioè appunto come lui viveva il rapporto con Cristo, il fatto che riceveva Gesù tutti i giorni della sua vita, ricevendo la comunione, partecipando alla Santa Messa. Mi colpisce molto anche il fatto che lui si affida molto alla volontà di Dio, infatti non solo nella vita di tutti i giorni ma anche durante la sua malattia. Infatti lui affida la sua stessa vita al Signore, la sua sofferenza. Carlo ha lasciato un patrimonio spirituale di frasi della sua vita bellissime, tra cui la più famosa che è l'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo, quindi avere presente una meta che è l'Eucaristia. Poi tutti nasciamo come originali, ma molti muoiono fotocopia. Cioè qui spiega proprio che ognuno di noi ha un progetto diverso, quindi quello che io devo realizzare non lo può realizzare qualcun altro. Quindi proprio con questa frase Carlo ci fa capire che ognuno di noi su questa terra è chiamato a una missione speciale. La mongolfiera per salire in alto ha bisogno di scaricare i pesi. Così l'anima per elevarsi al cielo ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali. Ogni giorno sento la necessità di concedermi in questo dialogo. Gesù per noi si è sacrificato e sento il desiderio di vedere ogni giorno questo sacrificio. Più volte mi sono chiesto cosa sono i miracoli. Ce n'è uno che mi colpisce più di tutti, quando l'ostia si trasforma in una piccola parte del cuore. Quando incontro i ragazzi e i miei coetanei cerco di raccontargli queste storie, perché sono dei segni che vengono lasciati per continuare a credere, ad avere speranza. La parola di Gesù è qualcosa di straordinario. Pensate a Gesù come uno di voi, il vostro miglior amico o un vostro fratello, ma anche una persona che ha bisogno del vostro aiuto. Per me essere cristiano significa osservare il mondo e portare la mia gioia, la mia forza agli altri. La nostra grande fortuna è che se desideriamo qualcosa possiamo ottenerla grazie alla fede in Gesù e negli altri. Se vedete un amico in difficoltà, aiutatelo, non lasciatelo solo, non chiudete gli occhi. Carlo diceva sempre, Assisi è il luogo dove io mi sento più felice. E questo l'ho sperimentato, lo sento ogni volta che arrivo in questa terra. Si respira proprio un'aria particolare. La prima volta che sono venuto ad Assisi per andare da Carlo, lì ho trovato il senso di quella frase, il senso della sua vita, della sua spiritualità e perché fosse davvero legato a questo posto. L'ho sperimentato nella mia vita e lo sperimentano i tanti giovani che vengono in questo luogo per rivivere ciò che in realtà ha vissuto Carlo. È un viaggio continuo. Diciamo che lui ha iniziato questo viaggio e noi lo continuiamo. Conoscere Carlo significa conoscere Assisi. Fare questa esperienza con l'associazione è qualcosa di unico e di ripetibile. Vivere questo viaggio insieme significa comunione, comunità, essere insieme, condividere questi momenti insieme, che non sono soltanto i momenti di preghiera, ma è vivere proprio la quotidianità. Il desiderio di incontrare Cristo insieme, il desiderio di condividere una passeggiata insieme, una parola, legati dallo stesso ideale che è Gesù. Il desiderio di incontrare Cristo insieme, ogni persona che conosciamo, frequentiamo e viviamo al diritto della nostra comprensione e del nostro amore. Ogni persona che scappa da paure, guerre e condizioni disumane ha il diritto di trovare un rifugio. proprio così possiamo conoscere la nostra felicità. autentico, umile, originale. veritiero, veritiero, generoso, semplice, altruista, caricatevole, straordinario, gioioso, bello e felice. Ogni giorno vivo l'ecarestia come un costante dialogo con Gesù, una speranza autentica. L'ecarestia è la mia autostrada per il cielo. per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi. tutti siamo chiamati a diventare santi. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.